Adesso la Sicilia ha un nuovo record, infatti la prima regione italiana ad aver ufficialmente detto addio alle province. Che sia un primato lusinghiero o meno, lo dirà il tempo, soprattutto lo diranno gli effetti che questa rivoluzione produrrà nei prossimi mesi. Intanto però il disegno di legge è stato approvato e con numeri persino superiori a quelli previsti. 62 voti a favore, 14 contrari, due i deputati che si sono astenuti. Cala così il sipario su una riforma che a Sala d'Ercole ha avuto un percorso complicatissimo e si è rivelata anche un aspro terreno di scontro. In base al testo approvato dall'Assemblea, le nove province siciliane scompaiono per lasciare posto ai nuove liberi consorsi di comuni e alle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, che corrispondono però ai perimetri fissati dal decreto del 95. Entro sei mesi i comuni potranno crearne di nuovi o scegliere se aderire alle aree metropolitane. Dovranno però sottoporre la questione ai cittadini tramite referendum e rispettare alcuni paletti. Tra cui la soglia minima di popolazione fissata a 180.000 abitanti per i consorsi di nuova formazione e il principio della contiguità territoriale che non può essere interrotta. Quanto all'aspetto della governance, che è stato anche uno tra i più duramente dibattuti, viene confermata la cancellazione del voto diretto. Consorsi e aree metropolitane sono organismi di secondo livello, dunque non saranno eletti dai cittadini ma dalle assemblee degli stessi consorsi, di cui faranno parte solo i sindaci dei comuni aderenti. Resta da definire invece la modalità di elezione dei vertici delle aree metropolitane sarà oggetto di un'altra legge e del resto rimane fuori dalla legge appena approvata la questione delle competenze e delle funzioni dei nuovi organismi, che sarebbe poi il vero cuore della riforma, ossia di cosa effettivamente si occuperanno liberi consorsi e aree metropolitane, quali funzioni saranno trasferite dalla regione o dai singoli comuni e come concretamente si garantiranno da un lato il governo intermedio del territorio e dall'altro i risparmi promessi dal governo Crocetta. Tutto ciò sarà definito in un secondo momento, se ne occuperà la legge che l'esecutivo si è impegnato a portare all'arsa entro l'autunno. Fino ad allora resteranno in cariche i commissari straordinari. Il governatore Crocetta parla di una pagina storica e soddisfazione arriva anche dal Movimento 5 Stelle, il cui voto è stato fondamentale perché la riforma venisse approvata. Non mancano invece le critiche sul fronte dell'opposizione tra chi sostiene l'incostituzionalità di alcune norme e chi ribadisce il rischio di impugnativa. Con il voto di ieri cala il sipario sul percorso tutto in salita di questo disegno di legge, un mese e mezzo di dibattito in aula, continue modifiche, riscritture del testo, l'ostruzionismo delle opposizioni e una valanga di emendamenti, fino ai 21 presentati ancora ieri dal presidente dell'Arsardizione. Insomma, alla fine l'impianto della legge ne è uscito completamente stravolto. I riflettori restano però accesi non solo sul delicato passaggio dalle province e consorsi, ma anche sulle ripercussioni politiche, alla vigilia di un rimpasto ormai ineluttabile che segnerà una sorta di resa dei conti fra crocette e le forze politiche che con i numeri lo hanno sostenuto. All'orizzonte poi un altro testo importante. La legge appena approvata dovrà passare al vaglio del commissario dello Stato e c'è chi dice che l'esito sia tutt'altro che scontato.